Salaviglione di Palazzo Lascari, saffolata di atleti di Juventus for special terzo tempo e Torino for disabled per la cerimonia di consegna degli attestati di merito che il Consiglio regionale ha voluto organizzare per premiare i vincitori del torneo nazionale Il Calcio e di Tutti della divisione Calcio Paralimpico Esperimentale, la cui finale si è svolta al Centro Tecnico Federale di Coverciano lo scorso maggio con la partecipazione di 25 squadre per un totale di circa 450 atleti, atto conclusivo della stagione sportiva 2022-2023 alla quale hanno partecipato 115 società e 140 squadre. Grandi meriti sportivi che hanno ottenuto a Coverciano, come abbiamo sentito direttamente dalle loro parole, con grandi soddisfazioni sono venute qua a raccontarle, noi abbiamo voluto premiarle con dell'attestazione di benemerenza del Consiglio regionale e premiando le squadre con le coppe. La divisione Calcio Paralimpico Esperimentale conta circa 3.200 tesserati ed è aperta agli atleti con disabilità cognitivo-relazionali e problemi psichiatrici. Obiettivo primario quello di favorire la pratica sportiva tra i calciatori che vivono situazioni di fragilità, evitando o limitando barriere economiche, sociali, fisiche e culturali che attualmente escludono i giocatori impedendo l'accesso allo sport. È bello vedere questi ragazzi giocare insieme, giocare per un risultato e tirare fuori tutto il meglio da se stessi. La Juventus tiene molto a questo progetto, investe tempo, parole, pensieri, emozioni, ma la cosa più bella è essere qui insieme a loro perché i protagonisti di questa giornata sono loro. Abbiamo la fortuna di avere questi ragazzi che ci mettono impegno, coraggio, passione e questo è qualcosa che poi in un mondo del calcio dove siamo sempre molto legati a certi risultati, a certe situazioni, ci apre veramente una visione completamente diversa. È un lavoro che si svolge durante l'anno con gli allenamenti, con la fatica, con l'organizzazione e che poi trova una concretizzazione che innanzitutto è sicuramente il risultato sportivo, ma il risultato umano che ne consegue e la cosa che a noi interessa sicuramente di più. Presenti all'iniziativa anche le consigliere Monica Canalis, Francesca Frediani e il consigliere Maurizio Marello. Grazie.